Musica Cari amici della Rava e della Fava Mi trovo a Vasto Vasto è un comune di circa 38.000 abitanti in provincia di Chieti Il comune di Vasto fa parte della cosiddetta Costa dei Trabocchi Il nome Trabocchi deriva dalla presenza dei caratteristici attrezzi per la pesca presenti lungo tutto il litorale Vasto sul suo litorale ospita una delle ultime formazioni di un ali della costa abruzzese Si tratta di un sistema di dune sabbiose dello sviluppo complessivo di circa 3 chilometri e un'ampiezza media di 200 metri con un'estensione complessiva di circa 50 ettari Le dune in certe circostanze presentano un'altezza che va dai 10 ai 15 metri In esse è riconoscibile la tipica vegetazione delle piante più esposte alla sarselina marina Tra questi la rocchetta di mare, i cordoni edificanti dell'agropiro e dell'ammofila Nelle praterie interdunali fiorisce la camomilla di mare, anche il giglio delle sabbie e quindi edifica il fratino, piccolo uccello della duna Le dune di Vasto sono state pertanto qualificate come sito di importanza comunitaria nell'ampito del programma BioItaly ed è entrata quindi a far parte della rete Natura 2000 Grazie a tutti